Grazie, signora Presidente. Buongiorno, signor Ministro. Io vorrei parlare con lei appunto di spending review. Stando alle bozze diffuse del piano sulla base del quale appunto il suo Ministero starebbe predisponendo questa spending review, parrebbe che la razionalizzazione delle spese inciderebbe con maggior forza, soprattutto sui presidi delle forze di polizia sul territorio. Allo stesso tempo purtroppo non si registra una medesima decisione di intervento sul taglio delle spese per quanto riguarda il numero delle direzioni centrali del Ministero dell'Interno, che ad oggi sono 19, nelle quali si concentrano gli amministrativi, lasciando così intravedere un'operazione di snellimento che prevalentemente sarebbe scaricata appunto sulle unità operative. Chiediamo pertanto quali siano le ragioni per le quali il Governo intende attuare la spending review, insistendo in principal modo sulle strutture operative delle forze dell'ordine, anziché concentrarsi sui costi delle funzioni amministrative del Ministero dell'Interno. Grazie. Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie, signor Presidente. L'interrogazione che vede come primo firmatario l'onorevole Bragantini paventa interventi di sostanziale riduzione delle strutture territoriali delle forze di polizia che deriverebbero dall'attuzione della spending review. La prima cosa che mi sento di dire è che comunque non ci sarà nessun uomo in meno per le strade. I cittadini italiani di questo possono stare certi e possono stare sicuri. E poi non posso che ribadire quanto detto già in Commissione qui alla Camera, e cioè la totale assenza di presunte misure programmatiche che producano il temuto indebolimento del nostro sistema di sicurezza sul territorio. Anzi, con la legge di stabilità del 2014 e con uno stanziamento specifico di 700 milioni di euro a favore delle forze di polizia, è stata avviata, e il Parlamento ha condiviso questa manovra dando la sua approvazione, una significativa inversione di tendenza rispetto alle restrizioni sofferte in questi ultimi anni dall'intero comparto sicurezza. E con la stessa legge, l'intera quota del Fondo Unico Giustizia di spettanza del Ministero dell'Interno è stata destinata alla incentivazione del personale di polizia impiegato nelle attività operative di controllo del territorio, nonché all'incremento della funzionalità generale dei servizi, cioè andata a quei poliziotti che stanno in trincea. Proprio quest'anno la copertura del turnover delle forze di polizia è stata portata al 55%, quindi si è invertita finalmente la proporzione, il rapporto si è invertito tra le unità di personale in uscita e quelle in entrata. Questa cosa aveva caratterizzato gli ultimi lustri con un saldo negativo di questo rapporto. E grazie a quest'ultimo intervento per il 2014 sarà possibile procedere a 2.600 nuove assunzioni di poliziotti, carabinieri e finanzieri. Fatta questa doverosa precisazione, debbo pure aggiungere che l'esercizio di spending review riguardante le forze di polizia nel rilanciare la funzione di coordinamento nei suoi aspetti di sinergia si potrà concentrare su alcune articolazioni sui reparti di specialità nella considerazione che in questi ambiti operativi è possibile magari razionalizzare qualcosa senza incidere sul dato sia strutturale che organizzativo che riguarda i servizi che non si possono e non si devono ridurre, noi infatti non li ridurremo. E riguardo alle funzioni amministrative demandate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza mi preme osservare come il tema non abbia una correlazione specifica con l'operatività delle forze di polizia. In ogni caso, un eventuale ridisegno strutturale e funzionale delle articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza potrà avvenire solo nella più ampia cornice di riforma a cui sono tenute tutte le amministrazioni dello Stato. Grazie. Ministro, a facoltà di replicare il deputato Invernizzi. Prego, a lei la parola. Sì, la ringrazio, signora Presidente. Ma, vede, signor Ministro, purtroppo la sua risposta non mi lascia particolarmente soddisfatto perché affermare semplicemente che nessun uomo verrà tolto dal controllo del territorio non è sufficiente perché se quando si parla di razionalizzazione, per razionalizzazione si tende pertanto magari la chiusura di alcuni presidi e pertanto lo spostamento degli ufficiali di pubblica sicurezza da quel presidio verso altre parti ebbè significa che parte quindi del territorio nazionale rischia di rimanere scoperto soprattutto per, e mi riferisco soprattutto ad alcune realtà nelle quali abbiamo assistito soprattutto negli ultimi anni e negli ultimi mesi ad una fortissima recrudescenza di tutta una serie di reati soprattutto predatori. E purtroppo non sono nemmeno soddisfatto dall'ultima parte della sua risposta. Noi chiediamo semplicemente che Italia la spesa che dovranno esserci e che comporterà sicuramente anche un interessamento del Ministero dall'interno devono riguardare solo ed esclusivamente gli amministrativi perché, e lei lo sa, visto i dati che sono appena stati diramati proprio dal suo Ministero, i reati, soprattutto predatori, sono in crescita. E noi riteniamo che di fronte a un aumento così importante dei reati si possa parlare di una situazione sostanzialmente di guerra. Quando si è in guerra, signor Ministro, non si tagliano le dotazioni, non si tagliano il personale che è in prima linea per mantenere, che so, la dotazione delle zollette di zucchero, del tè di quelli che sono nel quartiere generale al caldo. Noi volevamo da lei oggi una rassicurazione sul fatto, come lei ha annunciato, quando si parlerà di una rivisitazione generale delle strutture dello Stato e quindi anche appunto dalla direzione centrale del suo Ministero, che i tagli saranno concentrati solo ed esclusivamente nel confronto degli amministrativi. Perché dopo che si è pensato, soprattutto che il suo Governo ha pensato sempre con Sbota Carceri, con Operazione Mare Nostrum, sempre agli altri, noi le chiediamo per una volta magari di pensare, e concludo, ai cittadini per bene e alle forze dell'ordine che cercano di tutelarli. Grazie.